Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi voglio raccontarti di un'esperienza fatta a Vienna in Austria dove mi sono meravigliato, ed è vero il detto non si finisce mai di imparare, quando ho visto dei distributori a Vienna in Austria come in Olanda. Distributori immagino un po' di cannabis, del principio attivo dell'oppiaceo, che lo usano anche a livello terapeutico, in Italia anche, non soltanto in Italia, in tutta Europa e nel mondo, questa canna, che cosa ha a che fare con l'ipnosi vera e professionale o con l'autoipnosi vera e professionale? Bene, mentre quel principio attivo della cannabis agisce sul sistema nervoso centrale e aggiungo anche periferico, eliminando dolori, migliorando la tranquillità, la pace interiore, eccetera eccetera, è stato dimostrato scientificamente, così anche l'ipnosi vera e professionale agisce sul sistema nervoso. Noi siamo fatti di tanti figli, di tanti nervi, è tutto però a livello naturale. Tu lo sapevi che una bella sessione di ipnosi, un bel mp3 audio, dcs di ipnosi, di autoipnosi vera e professionale, una sessione online di ipnosi oppure dal vivo, ti porta a produrre endorfine per il semplice fatto di rilassarti e tu lo sai che cosa sono le endorfine? Sono gli ormoni della felicità, della tranquillità, della pace interiore, dell'allegria, che più ne mette, come la serotonina o che è un altro tipo di ormone, è tutto prodotto a livello naturale, dalle nostre parole, dai nostri pensieri. Ora, perché non utilizzare questa forma di parola, di comunicazione ipnotica a nostro vantaggio? E non si tratta di doping, come dice qualcuno, perché il doping, come dice la scienza, è qualcosa che proviene dall'esterno, una sostanza esterna che ti fa modificare i valori nel sangue. Mentre l'ipnosi vera e professionale sono soltanto parole, parole, però è come se tu facessi un giro, un viaggio nel mondo dell'essere felici su questa terra. Non credere a me, documentati, approfondisci, visita la rivista Lancet internazionale, una rivista scientifica mondiale, eccetera, eccetera, che parla di ipnosi e fammi tutte le domande del caso. Io ti risponderò gratuitamente, ok? A parte il materiale a pagamento che riguarda me. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzione di cester del dottor Claudio Saracino, e faccia il condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzione di cester del dottor Claudio Saracino. E ricordati, se hai questo potere, il potere della tua mente che agisce sul corpo, nella tua vita, visibile e invisibile, perché non sfruttarlo? Quando ci sono tutti i santi crismi per fare ciò, perché è riconosciuta come medicina alternativa all'ipnosi vera e professionale dell'Associazione Medica Mondiale 1958, dalla Chiesa 1847, un pape bianono, un bacio e un abbraccio e al prossimo video.